E anche quest'anno abbiamo beccato Lucio, la nostra insaputa, che si sta facendo un altro tattoo sul polpaccio sinistro. Questo è il nostro tatuatore, assorto con l'hypolt, con musica F-Metal. Come sta andando Lucio? Oh scusa. Vai tranquillo. Com'è che sta andando Lucio? Una bomba. Una bomba? Non è bene molto la tante. Quindi sto abbastanza tranquillo. Non è bene che due, ma tutti i due. No, no, sto bene così. No, va. No, no, però... Molto bene. Siamo a Lecce, siamo a giugno, c'è la fiera del tatuaggio e ovviamente Lucio non se l'è fatta perdere, non se l'è lasciata perdere.